Siamo pronti a uscire, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi lasciamo a casa le... no, le spark le prendiamo, però lasciamo a casa le fasce cardio e prendiamo Lego Pro. Andiamo a girare qua sopra San Bertolomeo, il sole splende, sarà una bellissima giornata per fare un po' di riding sui sentieri, un po' di tecnica insieme a Joelle e insieme a una guest star che sta arrivando direttamente dal Piemonte. Dovrebbe essere arrivato Nick. Dov'è? Eccolo, a forza che cale. 2 contro 1. Massi dai. Via! Prima discesina di giornata. Siamo ad una giornatina di scarico, ne approfittiamo per fare un po' di tecnica. Abbiamo fatto tre giorni di fuoco all'inarci con i pazzi. Ok, ho messo il telefono via, ho perso gli altri. Lo dicevo, tre giorni all'inarci con i pazzi, oggi è ora di fare un po' di divertimento. Ho perso i miei compagni di avventura. Dovrei ritrovarli. Eh, dovrei essere tornato sulla retta via. Gioca. Eh, sono andato di là. Bello, prima volta che provo questo sentiero. Saranno perfetto, chiede addio. Tra l'altro siamo su tre scotto oggi. Nick con il frontino, noi con le Spark. Grande Nick! Gente che si gasa! Nick tra l'altro eroe col frontino su queste discese. bello manico. Bello manico. Bella tecchio di qua, eh! Facciamo una linea. Ben ripidoni qua c'erano. E? Occhio a Nick. Oh Nick, ho la canala qua. Che c'è un rifasso. Questo era il sentiero Joker. Bello tecnico, eh. Il finale. Ho fatto un po' di tecnica. Tre GoPro, tre Scott. Manca farlo apposta. Incredibile. Follia. Gio, che è il primo giorno con la GoPro. Attenzione. Stiamo facendo un po' di test. Controllo se ti sia venuto qualcosa. Oggi ce la prendiamo proprio comoda, eh. Non è sempre così. Abbiamo fatto tre giorni di fuoco. Oggi, GoPro, discese, tecnica, panini. Ce lo meritiamo anche un po', eh. Ogni tanto ci vuole. Bella la discesa così, vista mare. Intanto ragazzi, mi ricordo di iscrivervi al canale. E se non mi seguite anche su Instagram pubblico un po' di reels, un po' di contenuti. Dai, torniamo su e andiamo a fare un'altra discesina. Bene, siamo pronti per la discesa delle antenne. Inizia con una bella parabolica che penso che non faremo. Perché non è fatta benissimo, dicono. Poi ci butteremo giù e andiamo a San Bartolomeo. Ormai abbiamo un'ora e dieci di bici. Siamo quasi buono per il giorno di scarico. Tempo di fare una discesa, un po' di asfalto. E abbiamo finito. Poi vediamo, magari ci mangiamo un panino lungo mare. Ci rilassiamo un po'. Nick, come sta procedendo? Da paura. Da paura, un bijou. Vamonos. C'è un doppietto qua. Le vorrei vedere. A parte che c'è anche la passerella. Bisogna arrivarci un po' forte e via. Facciamo un salto curva, torniamo su qui. Dai. Siamo arrivati giusti, eh? Discesa verso San Bartolomeo. Spero di non sbagliare strada. Come registravi, los Gal Caitlin. stopting la passerella. Oh no. Se, sei poco isti. Di che cinchià. Sì ayud' a 3 le sacce. Spero di essere a 2, Broken Rimini. bello questo sentiere è un po' più nuovo di quello che abbiamo fatto oggi questa mattina saltano in blu fantastico saltino c'è qua occhio ciao grazie mille i benefattori che puliscono i sentieri veramente la seconda parte sta un po' più tecnica un po' più rocciosa a fondo c'è anche un po' di fango un'altra linea come dicono chi non muore si rivede ok dai che ragazzi con la bella stagione tra un po' tra un mesetto due tornano anche i video chiamiamoli video lezione con Greg la tecnica vediamo un po' di switchback vediamo un po' di varie cose dai mi piacerebbe portare un po' di cose fighe e tornano ovviamente anche le sfide in salita con Greg e poi vi farò vedere quest'anno come averti visto siamo in scontro insieme io e Joella un po' di ritiri cosa facciamo in allenamento come ci prepariamo qualche vlog di qualche gara un po' di robe così un po' fighe da farvi vedere che fighetta che sono mamma mia enduristi scusate è solo riuscito a sporcarmi comunque dicevo mi portiamo un po' di roba figa contenuti particolari bella ultima parte andiamo a spingerla un po' figata bello fango chiamalo fango caralino maledetto siamo in centro paese sembra un po' il finale della gara di Alassio c'è acqua per un'ora e mezza di bici direi che scarsa ce la stiamo divertita 600 metri di sveglio un'ora e un quarto due discese atomiche non ci possiamo lamentare bello 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 non è tutti i giorni così purtroppo ragazzi però oggi oggi bene mi sono mangiato una bella pasta non mi ho fatto vedere perché mi sono ricordato di fare la clip dopo che l'avevo spolverata via una foto forse mi possiamo si forse mi metto una foto qua e non è una pasta sono due ah si si certo Nick saluta i miei iscritti ti bacerai se fossi una ragazza puoi baciare uno stesso non bisogna tagliarla ciao Nick vediamo alla prossima ciao Gio noi ci vediamo in un prossimo video qua sul canale continuate a seguirci come vi accendevo prima in discesa faremo tanti video quest'anno tante chicche tanti ritiri allenamenti vi faremo vedere un po' di cose quindi state connessi ciao ciao ciao